Le candelore, soprattutto nei giorni precedenti, il 345, devono comunicare alla questura e al comune il loro percorso preventivamente, devono avere l'assicurazione, devono ovviamente rispettare il decoro oltre che le leggi e anche le normative fiscali. Questo anche per prevenire o comunque per controllare eventuali i cosiddetti inchini? Sì, sicuramente il regolamento serve a questo, il fatto che il percorso venga dato preventivamente e soprattutto il controllo che venga rispettato il percorso, questo ci tutela, dobbiamo stare tutti attenti con gli occhi aperti e appunto il regolamento serve a prevenire qualsiasi tipo di incidente proprio perché la festa deve andare al di sopra di tutto. Grazie